allora siamo stati dai terroni qua ci ha arrempito la macchina di roba io ero andato lì perché da anni che vedevo come si chiama sull'angolo della strada si prenotano pomodori per salsa siccome marlene fa la salsa ogni anno cioè la faceva diciamo forse l'ultimo anno non l'hai fatta né marlene allora l'anno scorso l'hai fatta ecco ogni anno ho detto proviamo perché vedevo sempre stata scritta quando passavo e finalmente sono andato riempito la macchina ha regalato un sacco di roba e ma sono furbi i primi clienti ci ha regalato le patate il prezzemolo questo qua era siciliano patate e prezzemolo che ci ha regalato marlene perché i limoni si ecco i limoni e io ho preso una scatola di pomodori poi la marlene ha preso anche le salsicce ha preso un buon botto di roba è la nostra pizzeria pugliese dove andiamo di solito e niente volevo farvi vedere la roba qui poi c'è anche il bagagliaio io non lo so se ce lo fanno perché siamo primi clienti nuovi anche se da anni che quando adocchiamo la trascrita ma non sono mai andato o se perché devono chiudere lo stabile perché questo qui è un frutta verdura grosso e chiudono a fine luglio e sono ancora fine di roba hanno detto loro che devono sbolognare chissà se è vera sta roba qui non mi fidi tanto però va bene comunque anche mia mamma va sempre dalle siciliane a far spesa di frutta verdura si trova bene quindi